Sì, andiamo in Piemonte a Casale Monferrato. Il coronavirus ha riacceso la paura per le malattie polmonari legate nei decenni ad altre vicende. L'inviato è Leonardo Zellino. Adesso c'è un altro nemico invisibile. Sì, il coronavirus. A Casale Monferrato già da decenni convivono con un nemico invisibile, l'asbesto, le fibre di amianto che in paese hanno ucciso centinaia di persone. Da quanti anni ha l'asbestoso? Da circa 30 anni. Affanno, no? Al posto del grande mostro ora c'è un parco pubblico. Campeggiava, la ricordo bene da bambino, la grande scritta Eternit. La fabbrica è stata chiusa nell'86, tanti processi ancora nessun colpevole. In paese tutti hanno un parente, un amico ammalato o morto per mesotelioma pleurico. Per questo hanno preso sul serio le indicazioni sulle precauzioni da adottare. Quasi tutti i negozi sono chiusi. Siamo abituati a un nemico invisibile, questa volta è ancora diverso però. Perché questa volta il nemico invisibile viaggia con una rapidità alla quale non eravamo abituati. Il panico che destano le due patologie penso che possa essere lo stesso. La dottoressa De Giovanni è stata l'oncologa degli operai dell'Eternit. Cosa hai imparato dalla lotta al mesotelioma? Ci vuole anche una cura particolare per tutte le loro paure, per le loro rabbie, per le loro solitudini e per le loro disperazioni. Vale anche per il virus? Vale anche per il virus. Molten il virus?